Ehi, Leaping Baby? Mmm, sì? Che cosa c'è? Sì, secondo me, non ho avuto disinettro, ricordo del video 7000 volte. Ma è bellissimo! Questo è un video, è una dubbi, però, secondo me, lì sta, tipo, 7 volte. È vero, è bellissimo! Voi venire a fare merenda con noi? Oh, ciao ragazzi, ma chi sta registrando? Oh, io! Devo registrare tutto il tempo io, oh mio Dio! Ragazzi, che ne ho? La colazione al bar vicino alla casa di campagna del parco. Sì, certo, è una buonissima idea! Sicuramente saremo tutti quanti felici! E porteremo anche lui per questo posto, questo posto è un po' magico. Questo posto non mi piace! Ehi, grazie per il complimento! Però, sei morbido! Guarda, andiamo! Sì, è da quella parte! Ippì! Sì, è anche la professoressa, però! Già, è da un minuzzo! Che con c'è la scuola! Che sfida! Io la odio! Io invece adoro il mio asilo! E io la odio essere un non disturbato! Ecco, ho già questo! Ecco, ho già arrivato! Ecco, mi sono andato anch'io! E lui, sono andato! Bisogna si fermata a vedere il laghetto dei pesci! Ciao ragazzi! Stavolta dato il nome all'insegna! Tutu! 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 Ehi, dove scappi? Aspetta! Dove è il minuzzo? No, dove è il minuzzo? È lì! Sì, sì! Giù, giù, giù! Già, giù, giù! Già, giù! Comunque ragazzi! Sì, è diventato qua per ragionare qualcosa, giusto? Sì, però sì! Ho scritto tutto sul mio tavolo! Allora, io vorrei un calcetto e un po' di frutta! Ok! Io invece vorrei un biperoni! Un biperoni con un po' di latte! E una scodella con latte Che buono il latte Stavolta anch'io lo voglio provare Vediamo se è buono come dice sempre Vedrai che non ti mento Vedrai che vi fiederete l'una con l'altra Comunque ora ordiniamo Che buono Io sto guardando il tablet E nel frattempo mangio i miei cupcakes E la frutta? La frutta me la mangio dopo Io ho già finito il mio viveron E siamo anche sazie Beh Allora Tornati a casa Il tuo tablet non ti lo restarei dimenticando qui Come la videocamera Io vi guardo il compito di questo video Cosa? Hai scoperto che siamo delle blogger? Oh mio dio questo è un problema Tranquilli Avete ancora iscritti Quando avrete 50 iscritti Farete lo speciale Sì abbiamo Oh no non abbiamo ancora detto niente Ragazzi quando avremo 50 iscritti faremo lo speciale E Compreremo una LOL E poi la capiremo Quindi Invitatevi per i vostri amici Dicevi che ci sono delle LOL Che apriranno una LOL Chissà se è glitter O magari una di noi O magari una perle Per la perle ci vorrà un po' di tempo Fidati O forse una confetti pop Oppure una pezzo Scoprirete solo Se raggiungeremo 50 iscritti Bene E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi E se ricorda che se volete se resalta Scribbetelo nei commenti Ciao Ciao ragazzi